Tutto pronto in Casabari per l'esordio in campionato. Sabato sera al San Nicola arriva la neopromossa Juve Stabia di Guido Pagliuca. I biancorossi sono favoriti ma mister Moreno Longo mette in guardia i suoi dal sottovalutare l'impegno. Siamo contenti di cominciare davanti al nostro pubblico, cercheremo in tutti i modi e faremo tutto il possibile per cercare di cominciare nella maniera giusta. Io credo che dietro questa partita noi dobbiamo essere veramente bravi ad approcciarla nella maniera corretta, con l'intensità, con l'aggressività giusta, con la mentalità corretta. Ai nastri di partenza della nuova Serie B Longo ribadisce che il suo progetto resta ambizioso nonostante ci siano formazioni sulla carta meglio attrezzate del Bari. Le mie ambizioni sono alte, altissime. Se ho sposato Bari è perché reputo Bari una piazza importante e una piazza ambiziosa. Mancano ancora dei giocatori all'appello, importanti, che devono farci fare il salto di qualità. Se penso a Cremonese, Sampdoria, Brescia, Spezia, non hanno cambiato la guida tecnica. Noi oggi siamo in una fase di ripartenza, siamo in una fase di costruzione. Queste sono squadre che, oltre ad avere organici top, hanno anche la fortuna di aver potuto lavorare su queste squadre con gli stessi tecnici almeno dalla stagione precedente. Tra i protagonisti della partita ci sarà sicuramente Dorval. L'esterno biancorosso è pienamente recuperato e giocherà dal primo minuto o a gara in corso.